Ciao ragazzi, sono appena tornato dal Garben Fantasy, ci sono stato in questa bellissima fiera medieval fantasy qui tra l'altro nella mia città e questo è un video con la raccolta delle foto che ho scattato appunto in questa manifestazione spero che vi piaccia, godetelo! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!